Tra i peggiori criminali che abbiano mai appestato la faccia della terra Quattro di loro sono attualmente detenuti nella cella di massima sicurezza della prigione di Disney Tuts Tra i peggiori criminali che abbiano mai appestato la faccia della terra Subito dopo il matrimonio scopri tutto e nel modo più tremendo Vedi queste mattonelle? Devono essere calpestate in un ordine esatto altrimenti scatterà l'alarme Ma allora come facciamo ad uscire? Seguitemi e fate esattamente come faccio io Come facciamo ad uscire? 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 Abbiamo bisogno di un'ultima cosa, la più importante Abbiamo bisogno di un capro espiatorio, un mentecatto Un idiota Un minorato mentale Un mongoplettico Un mongoplettico Un mongoloide Un mongoloide Uno spastico Uno spastico Uno zoppo Tipo il gogo Casi proprio simpatico, pippa in tonaco Io Parlavo di un'esca Dalla caduta Un mongoloide Certo Ma dove la troviamo un'esca? La mangiata Un mongoloide Un mongoloide Allora ti sei divertita E bricconcella Questa sera io e te una volta usciti Io e te Cosa? No, dico una volta usciti da qua No, no, ecco No, ecco una volta usciti da qua Questa è la padora E questo è il crucioro La strada tra Tutta è meca Ora tu se lo vuoi Entra Che te sas piaci con noi No, ecco una volta usciti da qua No, ecco una volta usciti da qua No, ecco una volta usciti da qua No, ecco una volta usciti da qua